ha vinto Brozovic di poco secondo me 8 3 per 8 24 24 e 18 42 e 18 fa 67 67 per Brozo invece qui abbiamo 15 9 24 24 48 48 e 18 66 vedete si ci sta vince ancora Brozovic di un punto vi ripeto sempre vi ricordo che i numeri sono relativi all'avversario non sono numeri in assoluto perché quando parliamo di giocatori molto forti ci sarebbero tutti 9 tutti 10 e quindi li facciamo relativamente relativamente vince Brozo